L'amministrazione comunale di Nago Torbole ha avviato in questi giorni le procedure per la costruzione del nuovo municipio. Il primo passo è la demolizione dell'ex dependence della colonia pavese, dal momento che il nuovo edificio sorgerà sulle sue fondamenta. La struttura fu costruita all'inizio del 1900 e adibita ad alloggio del personale del Grand Hotel Torbole, aperto nel 1906, un albergo di lusso con 150 camere che rimase in funzione fino al 1935. Durante la Prima Guerra Mondiale l'edificio ebbe le funzioni di ospedale militare dell'esercito italiano. In seguito il compendio venne acquistato dalla provincia di Pavia, che diede l'attuale nome alla struttura, adibita a colonia estiva per bambini e a preventorio antitubercolare. Durante la Seconda Guerra Mondiale, dopo l'8 settembre del 1943, il complesso venne utilizzato dall'esercito tedesco come ospedale militare e poi dai soldati americani fino al termine del conflitto. L'edificio riaprì nel 1948 con l'aiuto dell'esercito americano, ritornando preventorio fino alla sua chiusura definitiva nel 1975. L'anno successivo, in seguito al terremoto, anche la Dependance è stata sede per tre anni delle scuole di Riva. Con la riforma sanitaria nazionale, la struttura fu ceduta dalla provincia di Pavia alla provincia autonoma di Trento, che a sua volta, negli anni Ottanta, la trasferì in proprietà al comune di Nago Torbole. Accompagnati dal sindaco Gianni Morandi e da alcuni rappresentanti dell'amministrazione comunale, abbiamo visitato l'interno per capire come appare oggi e consegnare la memoria alle ultime immagini filmate di ciò che è rimasto di questa storia. Certo, hai detto bene, consegnare la memoria perché con parte soddisfazione ma anche con un po' di una certa emozione perché domani, oggi stiamo ultimando il trasloco, da venerdì cominceremo la demolizione completa raso al suolo di questo edificio. È un edificio che ormai è passato nella storia di Torbole per varie vicissitudini, è stato sede dall'epoca in cui fu costruito assieme al Grand Hotel Torbole, che è la nostra colonia pavese, che sarà un altro tema nell'immediato futuro. Questo è l'ex-dependence, noi ora la dimmiamo a un municipio, quindi radiamo il suolo e costruiamo un nuovo edificio moderno. È un'operazione non da poco perché di fatto si tratta di un'operazione, secondo me, storica da punto di vista urbanistico perché di fatto andremo a demolire un edificio che comunque ormai è fattiscente, l'avete visto anche voi, non ha caratteristiche particolari da punto di vista proprio storico, culturale e di fatto abbiamo lo svincolo anche su questo. Ma soprattutto, una volta demolito, la storia ci insegna ormai, non c'è più nessuno che possa aver memoria di questo luogo senza questo edificio, quindi è comunque un pezzetto di storia che se ne va, ma noi lo facciamo ben volentieri perché di fatto dobbiamo pensare al futuro, pur con un occhio al passato, però il futuro secondo noi è molto più importante perché a quel punto lì passeremo la storia perché ricostruiremo, anzi daremo per la prima volta una vera piazza a Torbole perché nel progetto non c'è solo un edificio ma c'è anche la creazione della nuova piazza e poi la nuova casa del comune che è il municipio che credo che sia un luogo di vitale importanza per un comune perché è la casa del comune, la casa dei cittadini dove lì si svolgeranno tutte le attività, i servizi e anche qui ormai sono decenni che si parla di dare un nuovo municipio a questa comunità e credo che quindi passeremo la storia per vari aspetti e credo tutti positivi dalla riqualificazione urbanistica a una riqualificazione sociale e anche diciamo così amministrativa Questa è una delle testimonianze di ciò che è stato questo edificio nel corso del tempo è una macchina per fare i raggi L'edificio fino a qualche giorno fa è stata la sede dei Vigili del Fuoco di Ango Torbole Certo ormai sono, a parte questo piano, ma negli anni sempre modificando gli spazi ma ormai sono oltre 20-25 anni che è anche sede dei Vigili del Fuoco abbiamo però provveduto a trasloco di tutto il corpo abbiamo identificato la nuova sede nel magazzino comunale nostro in Mala Nago che è un edificio nuovo, recentissimo, un magazzino, quindi un capannone antisismico messo a posto con tutti i crismi quindi sicuramente molto molto meglio di qua dove ci stanno tutti i mezzi uffici, sale radio, tutto quindi una caserma nuova assieme al magazzino comunale come succede in tante altre parti e quindi credo che abbiano una sede dignitosa rispetto a quello che è stato in questi anni che comunque loro ci hanno messo dell'oro nel rendere dignitosa i vari locali però l'edificio nel suo insieme è comunque sempre un edificio strutturalmente fattiscente grazie grazie